Andiamo a salvare Origine Origine sto arrivando Allora Prowler Cosa ci fai qui? Fondazione è la tua fine No questa è la tua di fine Ok Prowler Eliminata Sto entrando nel tacos E dovrebbe essere qui Non ho più comunicazione con l'immagine Cavolo Allora Origine sei qui? Che cavolo Vediamo se è qua sotto Origine Carnage Dov'è Origine? Lascialo stare Stai lì fermo non ti muovere Non ti muovere Carnage Dov'è Origine? Dov'è Origine? Allora facciamo Facciamo un patto Io mi allontano Esco fuori Ma esci anche te Sto uscendo Ok Esci anche te Ok Devi uscire anche te Dalla porta principale Di questo posto Ok 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 Ti sto aspettando Veloce Esci Cos'hai Cosa sono quelle cose in mano? Ce l'ho Esco Buttale giù Allontanati 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 Stai lì fermo Fermo immobile Adesso tu verrai con me Stai fermo lì No Dove stai andando? No Stai lì So che è Origine lì sotto So che lo tieni lì intrappolato Lascialo No Carnage Devi stare fermo Non Cosa No Fermo Allora Tolgo le armi Sto qui Però Non fare esplodere quelle C4 Lascia stare Origine Vuoi te Le faccio esplodere? No 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 Allora Stagio Sono stato su qualche minuto Non sono stato su 30 anni Hai già preso un altro stagio? No Anzi Noi Ehi Ma gli hai dato una pistola? Oltre a carne Giova pure Venom Mi state prendendo in giro? Consiglio Allora No 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 Allora Grazie a tutti